un salutissimo agli amici di mitico snake allora ragazzi in questo video voglio portarvi una cosa che fa riferimento a due dei miei video che ho portato qui nelle settimane precedenti ovvero lo stabilizzatore zion crane m2 che ho acquistato l'anno scorso là dove vi ho portato l'unboxing e la prova sul campo e alcuni di voi grazie a questi video mi avevano chiesto se potevo portare un video di configurazione di questo stabilizzatore ebbene si in questo video vi farò vedere come stabilizzare sia una fotocamera e sia lo smartphone ma tutto questo subito dopo la sigla allora ragazzi prima di andare avanti breve premessa chi come me possiede una fotocamera compatta là dove l'obiettivo fuoriesce non appena viene accesa la fotocamera ebbene si sullo stabilizzatore la dobbiamo configurare accesa detto questo possiamo andare avanti allora prima di tutto prendiamo lo stabilizzatore dalla confezione e montiamo alla base lo stativo presente in confezione in modo che se poggiata su di un piano resta il più fermo possibile per poter eseguire la stabilizzazione dopo fatto ciò sblocchiamo i due assi ovvero l'asse verticale e l'asse orizzontale adesso non ci resta altro che prendere il supporto con l'apposita vite e montarlo alla fotocamera e tutto montarlo allo stabilizzatore e qui inizia la fase vera e propria di configurazione dello stabilizzatore con fotocamera montata voglio ricordarvi per chi utilizza le compatte la fotocamera deve restare accesa allora partiamo dall'asse orizzontale quindi dobbiamo agire sulla sullo stringente posteriore regolarlo spostandosi a destra o a sinistra finché la fotocamera non resta il più dritto possibile in maniera orizzontale una volta trovata alla giusta posizione non ci resta altro che bloccare lo stringente della parte posteriore ovvero lo stringente che va a regolare l'asse orizzontale adesso spostiamoci sull'asse verticale l'asse verticale è quel supporto presente sulla parte posteriore dello stabilizzatore che grazie sempre a quello stringente che va sbloccato possiamo spostarci in avanti o indietro fin quando la fotocamera non ha trovato la posizione ideale e l'obiettivo deve guardare verso lato quindi una volta che la fotocamera ha trovato questa posizione possiamo bloccare lo stringente punto 3 dobbiamo stabilizzare la parte frontale ovvero stabilizzare il supporto dove è montata la fotocamera quindi sbloccare leggermente la vite sottostante alla fotocamera e spostarsi in avanti o indietro fino a quando la fotocamera non resta con l'obiettivo puntato verso di noi una volta che abbiamo trovato la giusta posizione bloccare tutto sbloccare con il pulsante rosso dello stabilizzatore accenderemo e siamo pronti a fare le video riprese dal nostro stabilizzatore con fotocamera montata beh adesso abbiamo parlato della fotocamera parliamo come stabilizzare uno smartphone perché è possibile utilizzare su di questo zoom crane m2 anche uno smartphone e va configurato allo stesso modo però qui saltiamo un passaggio ovvero dobbiamo configurare lo smartphone sempre sull'asse orizzontale spostarci a destra a sinistra fino a quando non abbiamo trovato la giusta posizione e più diritto possibile la stessa cosa vale anche per l'asse verticale però lo smartphone sull'asse verticale deve essere stabilizzato con l'obiettivo verso lato quando abbiamo trovato la giusta posizione bloccare tutti gli stringenti sbloccare lo stabilizzatore e siamo pronti a fare le video riprese anche dal nostro smartphone con lo zoom crane m2 allora ragazzi io se avessi avuto anche una action cam vi avrei fatto vedere come calibrare anche una action cam però nulla cambia possiamo calibrarla qua alla stessa maniera con cui abbiamo calibrato la nostra fotocamera o il nostro smartphone però a differenza dello smartphone dobbiamo stabilizzare tutte e tre gli assi asse orizzontale asse verticale e asse frontale allora per quanto riguarda questo stabilizzatore come ho fatto per i video precedenti qua in basso vi lascio il link per poterlo acquistare su amazon e per chi possiede un account prime beh può acquistarlo anche con account prime e qualora vorreste qualche altra informazione beh il link lo trovate qua in basso nella descrizione quindi ragazzi io vi ringrazio per avermi chiesto questo video e non posso che essere veramente che contento allora io il video l'ho quasi terminato vi ho fatto vedere come stabilizzare fotocamera smartphone e mac john cam anche se non ce l'avevo adesso sono curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti e fammi sapere se questo video vi è tornato utile magari vi tornerà utile quel giorno che voi acquistereste questo zion crane m2 e se questo video vi è piaciuto vi raccomando lasciate tutti i vostri pollicioni in su perché ci tengo aiutano moltissimo in canale ma oltre a questo sono partite le animazioni e le solite animazioni che vi ricordano di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita ma soprattutto condividere questo video perché aiutano molto il canale sono presente anche su instagram chiocciola mitico snake ve lo ricorda l'animazione ma trovate anche il link qua in basso nella descrizione e beh adesso anche io ma avrei voglia di fare qualche ripresina quindi vado a stabilizzare la fotocamera e magari vado a farmi qualche video ripresa non so in esterna ma vabbè al di là di questo noi ci vediamo domenica mattina qui sul mio canale youtube ciao ciao